Michele Barile, Assessore allo Sport, Cultura e Turismo del Comune di Termoli, che quest'anno è al centro dell'estate, come sempre però, molisana, non solo musica, ma anche eventi nazionali come il Beach Volley, che è in programma questo weekend, questa tappa del campionato italiano, che chiamerà non solo coppie italiane, ma anche straniere sulla costa molisana. Sì, un evento importantissimo, quello che ci accingiamo a vivere in questa settimana, è un evento straordinario, voluto fortemente dalla FIPAP regionale, naturalmente sostenuta anche dal nostro Comune e dalla nostra amministrazione. Ritengo che gli eventi sportivi, le manifestazioni sportive, soprattutto quando parliamo di manifestazioni sportive di questa portata, di questa entità, possano ricoprire veramente un ruolo importante nella promozione del territorio, al di là di quello che poi è la, come dire, la base sulla quale poi si basano queste grandi manifestazioni, che ovvero è lo sport, in questo caso il Beach Volley. Quindi questo può diventare veramente un evento che traina e che promuove, diciamo, un attimino la nostra città a livello nazionale e non solo. Anche perché poi i termoli, in realtà, tante società anche, non solo di pallavolo, ma in generale anche storiche molisane, penso anche al basket, all'airino, anche comunque al termoli 1920, il termoli 2016, quindi c'è tanto sport che si fa qui nel basso Molisa. Certo, proprio così, è una terra ricca di società sportive e di sportivi, quindi può diventare, non solo per quanto riguarda il Beach Volley, ma anche per quanto riguarda altre pratiche sportive, può diventare veramente una risorsa importante quella che è il turismo sportivo, perché non dimentichiamo che è una realtà su un po' tutto il territorio nazionale, ma a termoli lo sta diventando sempre, si sta sentendo sempre in maniera più forte, soprattutto negli ultimi anni. Quest'anno, nell'anno della ripartenza, dopo due anni di Covid, ripartire con un evento del genere, insomma, credo che sia davvero molto importante. Ci auguriamo, naturalmente, che anche per le altre pratiche sportive possano arrivare presto a termoli, a prodare a termoli eventi della stessa importanza. C'è stato anche un grande impegno organizzativo, organizzare poi la città anche nell'ambito della gestione urbana, urbanistica, diciamo. Certo, i grandi eventi richiedono una grande organizzazione, questo è poco ma sicuro, però naturalmente ci deve essere quella elasticità e quella disponibilità da parte del territorio a recepire eventi di questa importanza e di questa grandezza, altrimenti sarebbe improponibile anche solamente parlarne. Quindi, sì, è stato molto impegnativo.